Sembra proprio che il weekend delle streghe per le criptovalute con il 4 luglio mercati americani chiusi non abbia fatto nessun effetto e quindi Arthur Hayes questa volta si è sbagliato, almeno così sembra finora ragazzi. Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a fare oggi il punto della situazione sia dal punto di vista ciclico ma anche da analisi tecnica ragazzi perché un pochettino delle differenze rispetto alle scorse settimane ci sono e soprattutto ci stiamo avvicinando a delle scadenze cicliche che sono fondamentali nei mercati delle cripto e anche su bitcoin. Un pochino qualche cosa sta cambiando e anche a livello operativo dovremmo tenerne conto. Siamo ancora in profondo rosso, in profondo trend ribassista ma vicini ad alcune scadenze temporali molto rilevanti ragazzi che ci fanno anche riflettere sul fatto che probabilmente i prossimi giorni potrebbero interessare anche delle fasi di respiro importanti. Quindi oggi andiamo a vedere un po' tutto quello che è la questione ma vi mostro anche un grafico sulla future del bitcoin quindi andiamo ad analizzare a fare un confronto su quello che è il bitcoin classico quindi lo spotto e quello che è il future quotato sul CMA. Perché sul CMA ragazzi perché la questione legata ai future per istituzionali è sempre più rilevante dal punto di vista dei mercati soprattutto nell'analisi dei cicli. Va bene allora ragazzi ho già davanti il grafico tutto quello che ci serve e anche i grafici legati ai future che è questo qui ragazzi vi faccio vedere un po' di situazioni e soprattutto oggi vorrei focalizzarmi solo esclusivamente sulla analisi di medio e lungo periodo dei cicli. Quindi non vorrei andare in maniera molto approfondita a fare tante riflessioni, tante questioni legate ad esempio alle news e quant'altro perché mi interessa farvi vedere anche Ethereum che è arrivato a un punto di vicinanza sulle medie mobili che indicano una barra di congestione quindi una non fine ma un respiro del trend ribassista che ci aveva contraddistinto nelle scorse settimane. Va bene allora iniziamo io inizierei sicuramente da questo grafico che è il grafico di Bitcoin ragazzi eccolo qui il grafico di Bitcoin è stato ripulito quindi non lo trovate uguale ai vecchi video perché ho modificato una serie di cose abbastanza importanti eliminando quelli che erano dei livelli di supporto e di resistenza ormai scaduti perché ragazzi i livelli di supporto e di resistenza hanno delle scadenze anche loro perché si deteriorano con il passare del tempo e soprattutto perché il mercato li brecca quindi non hanno più valore. Questi sono i nuovi e si basano anche sulle fasi attuali quindi ho inserito anche i nuovi livelli di supporto per il mercato cripto per Bitcoin se le cose dovessero veramente andare molto molto male nei giorni scorsi. Il più importante di tutti ovviamente in questo caso sono i 10.000 dollari ma ci sono anche dei livelli di supporto che non sono niente male i 16.800 e poi 13.000 questa che è la parte più in basso. Questo attualmente siamo sul livello di supporto più importante prima di questa distruzione di massa che sarebbe un break fino a questi livelli e cioè i 19.000-20.000 dollari. Questo attuale è il livello di supporto più importante e in effetti ha affermato la fase di ribasso anche se in questo punto è stato breccato il livello di supporto ma sta oscillando proprio come fa di solito un mercato intorno a un prezzo di equilibrio. Ricordatevi sempre che i livelli di supporto non sono mai precisi e puntuali quando vengono toccati il mercato scilla intorno a quei livelli soprattutto se la volatilità all'interno di una frangente temporale come in questo caso è molto ampia. Quindi con una volatilità un rumore di fondo molto ampio ricordiamo anche che il mese di giugno è stato uno dei mesi terribili del mercato delle criptovalute forse uno dei peggiori in termini di fase ribassista. Vi faccio vedere questa tabella che mi ha condiviso un nostro iscritto in academy ragazzi guardate giugno meno 38% la performance mensile di bitcoin. Questi sono tutti i mesi di bitcoin dal 2011 e in pratica ragazzi è il peggior mese di sempre insieme al settembre del 2011 che in questo caso era meno 38%. Non si trova in pratica quasi mai una performance così negativa all'interno di un solo mese. Appunto la grande crisi meno 37, meno 38, meno 35 che risale da giugno al settembre ottobre del 2011. Quindi questa è stata veramente una fase ampiamente ribassista. Se non un po' ragazzi ci siamo fermati su questo livello di supporto però dovremmo anche considerare il fatto che il trend resta pesantemente al ribasso è che non c'è in nessun modo una inversione in questa fase. Perciò da punto di vista di analisi tecnica dovremmo parlare in sostanza di due cose principali. La prima è le medie mobili che dobbiamo guardare in questo momento e poi dei livelli che invece se breccati all'aria altro potrebbero innescare un'inversione di breve periodo. Ricordo a tutti quanti che prima di avere un'inversione di trend e quindi di avvicinarci ad una nuova fase dei mercati dobbiamo chiudere il ciclo annuale di Bitcoin e poi successivamente assistere a un'inversione di prezzo da parte del mercato Bitcoin, Ethereum quindi price action in questo caso dopo l'inversione di prezzo si parla appunto di un nuovo trend e una nuova fase. Prima di tutto questo ragazzi si resta il trend rimbassista e basta. C'è da dire però che alcuni livelli il mercato li sta indicando e sono anche dei livelli intelligenti e poi la fase ciclica in questo momento ci porta anche ad una considerazione del fatto che siamo nel pieno della famoso trimestre giugno-settembre che doveva chiudere il ciclo annuale quindi magari se andiamo verso la fine del mese di luglio a cincischiare ancora un po' su questi livelli di prezzo perché no magari facciamo un leggero minimo possiamo chiudere l'annuale se non che c'è anche da dire che la scorsa settimana ragazzi Bitcoin ha fatto un minimo nuovo e l'ha fatto in close non sulla shadow ma l'ha fatto in close e questo è molto rilevante da un punto di vista di analisi ciclica. Allora andiamo intanto a vedere il livello di analisi tecnica poi passiamo alla ciclica di Bitcoin e questo che è il grafico del future poi vi mostro anche Ethereum perché Ethereum ha un segnale di analisi tecnica leggermente migliore rispetto a Bitcoin. Allora il primo livello indicato in questo momento ragazzi è questa zona qui cioè i 22.000 dollari perché i 22.000 dollari in questo caso coincidono con un'inversione di natura tecnica del trend di breve periodo ma anche con il superamento delle due mediamobili classiche ormai che avete imparato a conoscere la 11 e la 21 queste queste due ragazzi e un'inversione da questo punto di vista innescherebbe appunto un nuovo trend nuovo trend che è di brevissimo periodo chiaramente ma se il mercato fa una cosa del genere entra in una nuova fase poi se questa fase appartiene a un nuovo ciclo annuale ragazzi lo vedremo nei prossimi video però se appartiene a un nuovo ciclo annuale abbiamo possibilità che perduri un uptrend anche per un po' di mesetti se invece è ancora collegato al vecchio ciclo annuale vuol dire che sta allungando la fase di bassista e quindi in sostanza poi ritorneremo a scendere. Questo è un po' il gioco delle parti in questo momento però il livello 22.000 dollari quindi 22k pastona un livello in questo momento che da un punto di vista di analisi tecnica è molto rilevante per il suo superamento perché indicherebbe un'inversione di trend anche per il superamento delle due mediamobili ovviamente confermato ed in close della candela almeno daily vi faccio vedere anche il mercato con le shadow è abbastanza evidente che qui nelle scorse giornate c'è stato un doppio minimo in pratica sulla chiusura delle precedenti fasi di bassiste sì è vero che c'era questa shadow però intanto vi ricordo che il 18 era sabato tra le altre cose e quindi c'era in sostanza un flash crash che sicuramente è avvenuto però ragazzi questa fase qui lascia un po' il tempo che trova soprattutto di sabato però la close è molto rilevante quindi il livello di 19.000 vedete funge un po' da supporto quindi il mercato ha toccato il livello di supporto sia qui che in questa zona qui dopodiché sta tentando una fase di rimbalzo ora gli amici in academy staranno sorridendo perché questo è un classico pattern da pattern caimi soprannominato così da un annetto e mezzo o due perché questo tipo di pattern teoricamente è un pattern di accumulazione in deep cioè questa zona è un'accumulazione in deep che poi potrebbe invertire una volta indicata qui con una serie di micro accumulazione una specie di pack di breve previsti insomma che ragazzi una cosa del genere insomma è una tecnica che abbiamo spiegato in academy ho spiegato già diverse volte e indica una fase di potenziale inversione di trend non mi dispiacerebbe vedere una cosa del genere un po' prematuro con i tempi ancora io a dirvi la verità la mia preferenza sarebbe attendere su questi prezzi cincischiando ancora fino alla fine del mese di luglio lì le cose cambierebbero e non poco anche perché ragazzi uno dei miei train system quello che gestisce l'holding position non vi nascondo che è vicino anche ad una possibile ingresso long se dovesse avvenire una cosa del genere lo seguirò questa volta ragazzi in maniera consistente perché siamo alla scadenza dell'annuale allora questo poi è l'attività della trader perché il money management e il position sizing in questo caso si fa in base ai cicli quindi i cicli sono molto utili in queste situazioni perciò vicino alla scadenza di un ciclo annuale se uno dei miei sistemi mi dà il long lo seguo quindi fin tanto che non me lo dà no però se me lo dà a quel punto essendoci una chiuso un annuale quasi quasi lo seguo poi prenderò un paio di fake ma prima o poi si sale sul nuovo annuale allora questo punto di vista di analisi tecnica andiamo a vedere invece la struttura dell'analisi ciclica di bitcoin ragazzi ho suddiviso ho cambiato anche una serie di questioni legate all'analisi ciclica facendo un po' di pulizia e modificando un po' il grafico ho suddiviso questo ciclo annuale che stiamo vivendo molto brutto dobbiamo dirlo in due cicli semestrali più o meno da 180 a 190 giorni in questo caso ragazzi se il ciclo semestrale in questione venisse replicato perfettamente come il precedente potremmo avere una naturale conclusione del ciclo annuale entro breve cioè in questa zona qui sarebbe comunque un ciclo annuale corto rispetto agli standard di bitcoin perché solitamente li fa più lunghi però è anche vero che questo è un ciclo annuale molto ribassista quindi qui siamo vedete a un anno pulito quindi 370 giorni non un annuale da bitcoin che è oltre 400 però c'è da dire appunto che questo è un annuale molto ribassista con un mese di giugno peggiore della storia dei mercati cripto ci può stare un accorciamento nei tempi perché l'analisi ciclica indica che quando i mercati sono fortemente spinti a livello a ribasso diciamo a ribasso i mercati fanno una sinergia quindi ragionano così poi accorciano i tempi e questo ci può assolutamente stare magari poi non parte a scheggia però magari farà una barra di congestione però magari ha chiuso già la fase sui prezzi sul tempo magari avrà bisogno di un mesetto di accumulazione però ci può stare tranquillamente questa fase ovviamente tutto da confermare nel momento in cui il mercato dovesse invertire quindi mai andare contro trend questo ormai lo sapete anche se abbiamo delle considerazioni e delle idee dal punto di vista di analisi ciclica non significa che andiamo domani a comprare non sono consigli finanziari ma a prescindere da questo discorso ragazzi è quello che faccio anche io cioè non vado a comprare una cosa che sta crollando certo magari ci sono delle strategie che in questa fase si potrebbero anche adoperare però preferisco attendere ancora perché siamo in una fase prematura questo ciclo invece di natura semestrale quello suddiviso in tre strutture praticamente sono due mensili ognuna di queste ragazzi e quindi sono bimensili sono fatti insomma così questa volta su bitcoin sembrerebbe proprio che su questo minimo con l'asciato importante del 18 giugno si sia chiuso il mensile numero 1,2,3,4,5 di questo semestrale e che siamo nell'ultimo mensile che chiuderà teoricamente il semestrale e l'annuale bisognerà poi attendere per avere conferma da questo punto di vista ma l'idea non è sbagliata quindi teoricamente da qui ragazzi potremmo anche avere una fase di mensile che chiude un po' i giochi di questa fase di impassista e poi ci dà un respiro magari fino a fine anno e poi si vede tutto nel prossimo annuale che vi ricordo non è detto che sia rialzista anzi ci sono delle possibilità che il mercato continui a cincischiare a fare barra di congestione proprio perché questa crisi strutturale legata ai tassi di interesse da parte delle fed è la prima volta che viene affrontata dai bitcoin abbiamo parlato già diverse volte in sostanza comunque questa fase e agli sgoccioli dovrebbe mancare un po' alcuni si aspettano lo scivolone finale perché ci può stare ragazzi con tranquillità in quanto essendo in un ciclo mensile se questo ciclo fa parte del vecchio annuale è totalmente a ribasso e magari fa la stessa struttura del precedente mensile ecco questo ve lo dico in maniera molto netta potrebbe cincischiare fare così ma se fa parte del nuovo annuale di rialzi non se ne parla cioè solo oscillazioni al momento quindi o si scende pesante proprio negli ultimi giorni di luglio oppure facciamo trading range che è la cosa che preferisco insomma se dovesse partire a razzo vuol dire che l'annuale è già stato chiuso è insomma anticipato di gran lunga perché altrimenti non c'è soluzione quindi al momento abbiamo questi spettri operativi a livello operativo solo sopra i 22 prenderò in considerazione un'eventuale long ragazzi non faccio short su bitcoin ormai lo sapete invece short ho le cripto a go go per fare copertura su le posizioni ancora in hold ne ho il 25% vi ho mostrato il mio portafoglio l'altro giorno ma se dovessi andare long probabilmente tutte quelle stable le rigiro nuovamente su bitcoin e anche qualche cripto perché no in cripto picking magari facciamo un video aggiornamento nei prossimi giorni di quale cripto valute potrebbero essere ghiotte da un punto di vista di inversione del ciclo annuale perché vi ricordo che al di là dei progetti in fasi cicliche di questo tipo l'analisi fondamentale basata sulla qualità del progetto non ha nessun tipo di valore perché ce l'ha nel lungo periodo quindi almeno 5 anni ragazzi non certamente in un solo ciclo annuale e siccome il prossimo ciclo annuale potrebbe essere ancora difficile per i mercati delle cripto non mi sembra una genialata andare a fare cripto picking scegliendo progetti e non guardando i grafici io farò entrambe le cose ma se dal mio punto di vista il grafico soprattutto anche per il prossimo anno io ho detto 2021 anno per trader 22 per trader 23 secondo me ancora per trader lo farò con una predominanza della fase grafica quindi per me l'analisi grafica anche nel 2023 avrà un grande impatto sui mercati molto di più dell'analisi dei progetti poi nel 2024 potrebbe essere il caso di fare un all-in in holding però su questo ci pensiamo poi c'è tempo ancora un anno e mezzo e dovremmo vedere dove siamo finiti prima va bene ragazzi allora questa è la struttura del ciclo di bitcoin vi mostro anche il grafico invece del future che vi avevo promesso sui future ragazzi questa è anche una dritta che mi ha dato un iscritto in academy perché mi diceva Mauro guardiamo anche i future ha ragione perché negli ultimi anni soprattutto in vista delle questioni delle regolamentazioni fondi etf e quant'altro che hanno preso in considerazione al bitcoin possiamo anche iniziare ad analizzare il grafico dei future sul cme precedentemente praticamente lo spot era molto più predominante rispetto al future regolamentato che ha i sabati e scusate i sabati e le domeniche è chiuse giusto per intenderci quindi fai gap in questo caso adesso ha più senso valutarlo proprio perché c'è un maggiore traffico di volume da parte degli istituzionali su questo mercato in questo caso ragazzi la struttura dei cicli è divisa in maniera diversa vi ho indicato in questo caso le barre e vedete che le barre sono molto più precise rispetto a quello spot perché qui abbiamo 26 barre 39 giorni perché ci sono altre i sabati e domeniche eccetera e qui abbiamo di nuovo 26 26 vedete 27 e 26 teoricamente al finale che ci porterebbe a una scadenza interessantina per il 5 d'agosto un mesetto più o meno da oggi escluso domeniche e sabati quindi meno 8 giorni in pratica ragazzi è significativa una cosa del genere perché agosto in generale è un mese particolarmente proiettato per istituzionali nell'avere dei minimi e delle catastrofi scusatemi il termine perché quasi sempre gli istituzionali nel mese nella parte finale di giugno e luglio vanno in ferie quindi non è agosto che fanno le ferie ma a giugno luglio questo è importante perché poi quando riaprono i giochi a giugno incominciano a buttare mazzate scusate ad agosto incominciano a buttare mazzate potrebbe essere interessante una cosa del genere comunque al di là delle casualità storiche che di solito avviene una cosa del genere questo grafico ci mostra una struttura ciclica annuale ancora da chiudere con quest'ultima fase è di gran lunga importante andare a considerare anche come la struttura quelle non le medie sul semestrale la struttura delle medie è anche molto distante e su questo grafico invece l'inversione di trend è molto più distante perché questo massimo qui a 21,5 non ha molta rilevanza perché il mercato praticamente non ha fatto una vera barra di congestione come sullo spot vedete è troppo poco quindi anche dovesse andare qui ragazzi non mi aspetto niente di che perché probabilmente è lo swing che va a chiudere questa fase e per poi un'eventuale inversione quindi in sostanza il grafico del CME ci dice che anche un eventuale superamento dei 22 non è rilevante come potrebbe essere poi un'eventuale fase dopo quindi dopo agosto vedete un po' come l'incongruenza sul grafico del CME è molto importante perché ci dà una informazione cioè il prendere con le pinze anche un'eventuale inversione sui 22.000 dollari se fatta sullo spot perché il grafico del CME non è così strutturato come quello spot e indica che in pratica potremmo seguire questo tipo di di fase e non la successiva ora già io metterei una firma comunque in questo ragazzi perché significa un doppio minimo e non un disastro fatto in questo modo qua ragazzi ok che ce n'è da dire perché qui siamo a 10.000 dollari quindi cercate di comprendere il concetto che c'è dietro una cosa del genere però dal punto di vista di fase temporale questo grafico mi indica che dobbiamo attendere fine mese di luglio almeno ed è quello che io farò sui mercati delle criptovalute fermo restando che seguo sempre i miei trading system ragazzi quindi qualora dovessi avere uno segnale da parte dei miei trading system e insomma li seguirò senza ombra di dubbio però nel momento in cui sto facendo un'analisi magari sto analizzando un po' il mercato mi rendo conto che il vero vero nodo centrale è aspettare ancora un po' di tempo però siamo agli sgocci e alla fine ci siamo arrivati abbiamo parlato di questa cosa già da maggio ragazzi e alla fine vedete poi il tempo passa siamo a luglio ci stiamo dentro agosto sarebbe perfetto come mese perché siamo proprio nel centro quindi la scadenza ciclica fino a luglio agosto ci sta alla grande se si prolunga arriviamo a settembre e quant'altro però adesso siamo ai limiti dell'anticipo un poco poco in anticipo non tantissimo ma poco poco in anticipo quindi io un pochettino attenderei questa invece è la struttura di ETH Ethereum ha una struttura interessante sulle due medie come vi avevo promesso ve lo mostro è solo una chicca perché vedete le due medie mobili si stanno incrociando e in questo caso ragazzi cosa significa inversione di trend no significa che il mercato ha chiuso questo trend ribassista ed è entrato in una fase di barra di congestione di più che bitcoin è significativo perché Ethereum ha avuto una serie di difficoltà tantissime difficoltà in questa fase quindi l'entrata magari nel brevissimo periodo in una barra di congestione e il punto magari è un trend di natura ribassista è una cosa buona ovvio che ancora non l'ha fatta perché vedete sta ancora sotto è vero che questi due medie si stanno incrociando però in pratica ragazzi non è che il mercato è andato qui quindi solo sopra i 1.350 Ethereum inverte il trend di breve periodo al momento sembra chiuso anche lui in questa struttura di ciclo mensile che dovrebbe chiudere anche nel caso di Ethereum verso fine mese di luglio e da valutare questa cosa ragazzi perché vedete io qui ho messo il 20 luglio però Ethereum di solito fa cicli un pochettino più lunghi nulla vieta che questa fase si protragga appunto verso la fine del mese a 36 giorni quindi poi la valuteremo questa cosa qui prendete in considerazione il fatto che Ethereum sembra stia riposando su questo livello di supporto che sono i 1000 dollari ma al di sotto ragazzi di questi 1000 dollari c'è il nulla più assoluto perché abbiamo 7800 che è questa zona ma poi il vero livello di supporto è l'aria 500 600 questa area qui quindi ragazzi dovesse prendere l'ultimo sciacquone e breccare tutti questi minimi probabilmente assisteremo veramente a quello che molti dicono essere l'ultima fase con un crash di questo tipo c'è da valutare una cosa del genere la sto anche valutando io per una protezione eventuale nel momento in cui il mercato dovesse non breccare a rialzo quindi non invertire mai il trend ma iniziare a dare i segni di cedimento soprattutto fra una settimanina cioè quando siamo da metà mese e poi quando la fase ciclica ribassista dovrebbe iniziare a spingere a quel punto valuterò short selling senza dubbio su criptovalute Ethereum compreso non su bitcoin perché non lo faccio su bitcoin ma sulle cripto si come vi ho sempre detto a protezione del 25% rimasto su bitcoin in hold ragazzi questo è quanto questa è la mia idea secondo me i prossimi giorni saranno più concitati rispetto a quelli che abbiamo visto vediamo come evolverà la questione c'è anche da dire un discorso fondamentale c'è probabilmente una domanda che vi lascio qui per chi di voi è arrivato alla fine di questo video lunghetto come sempre quello del lunedì vi lascio con una domanda e ve la chiedo nei commenti della risposta secondo voi l'anno 2022 ha toccato il fondo cioè abbiamo fatto il minimo dell'anno 2022 perché se così fosse ragazzi alla fine gioco rischio rendimento converrebbe andare lungo perché se noi abbiamo ipotizzato di aver fatto un minimo nell'anno 2022 cioè il minimo proprio dell'intero anno e beh a quel punto andiamo long ragazzi perché se va bene abbiamo dentro BTC e se va male magari scendiamo poco poco ma non perdiamo granché quindi forse dovrebbe rientrare allora questa è la domanda fatemi sapere voi cosa pensate è sempre money management vedete ragazzi la differenza fra i trader che prevedono il futuro e i professionisti del trading ragazzi cioè che si adattano alle condizioni di mercato e soprattutto ragionano utilizzando il money management come una super spada da grande guerriero una spada a due mani quindi nasce a due mani e da grande guerriero per stare sui mercati soprattutto in questi momenti ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video che sarà la solita live questa volta la facciamo perché sono un po' più libero questa settimana ciao raga ciao